Benvenuti qui su Denemod, oggi voglio proporrevi un'update sui fatti per il Codex di D'Angelo, rilassato nel 19 novembre 2018 dal workshop di Games. Ora possiamo iniziare a vedere i fatti che parliamo. Potremmo trovare che è cambiato solo una cosa, che è relato al codice di reverse e, per l'equipimento, Grapnel Launcher. Inoltre, inizia il cambiamento di due paesi che riferiscono a tali equipaggi. E cosa è cambiato? Non è la funzione dell'equipimento, ma la parte particolare della prima frase di tali equipaggi. In effetti, se prima si funziona, quando i modelli con tali equipaggi si riferiscono, i Grapnel Launcher, ora si riferisce solo ai fatti di movimento. Quindi, significa che se lo fai per esempio per le fatti più fatti, per alcune ragioni, o se fai così una cosa per il combattimento, per esempio per aver assaltato, questa cosa non funziona. Quindi cambia così piccoli dettagli. È abbastanza importante perché cambia alcune meccaniche che puoi usare con questa unità. Quindi può essere abbastanza importante. Tutto bene, è come prima, quindi è solo per relare alla fase di movimento, invece di tutto. Quindi è abbastanza interessante, e devi considerare così cosa, così fatti, se vuoi spostare a quella unità. Perché le unità sono interessanti. E così fatti è abbastanza importante nell'utilizzo di un'unità per il tuo armi. Quindi, prendete note sui fatti. Inoltre, i fatti lasciano un po' perplexi. Perché non capisco perché è stato rilevato ora. Devi capire che in december, il nuovo capitolo che approfondito 2018 sarà rilevato. Quindi, molte cose cambiano. Inoltre, inoltre, sarà rilevato anche un'altra serie di fatti e dati. Quindi, questo fatti potrebbe aver aspettato fino a quella rilevata. Quindi non capisco così rilevata. Perché è un po' pronto. Non è così importante rilevata. Quindi non capisco così rilevata. Ok, è buono che sia stato fatto, ma non era necessario. Perché inoltre sarà cambiata molte cose. E potresti avere un'analisi completa delle cose con le nuove regole. Inoltre, voglio ricordare che questo è un'update. Quindi, hai la possibilità di vedere gli altri fatti analizzati, in dei video precedenti riguardo al nuovo codice di Blood Angels. Potete trovare il codice di analisi e i fatti su Blood Angels in descrizione, se volete. quindi potete trovare. Quindi potete vedere se siete interessati in... e vedere come sono esplicati nei dettagli. Quindi, da Dynamode, è tutto. Io ti invito a mettere un like a questo video. A inserire al canale. A ringerci la bellissima. E a commentare questo video se siete interessati in qualcosa di questo video. O se vuoi suggerire a me qualche argomento per altri video. Ho spero di vederti di nuovo per la prossima. A presto. 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 Grazie a tutti